Quest'anno il premio Donna Major viene assegnato alla dottoressa Silvia Franceschi, epidemiologa, ricercatrice scientifica di fama internazionale per l'opera intensa svolta in Italia e all'estero. Tutti avete nella cartellina questa biografia splendida, questo curriculum ricchissimo, direi che quasi più che Major, Maxima, una donna con una marcia in più, veramente ben radicata in questo territorio ma protesa verso il mondo in nome della ricerca. Non Sibis ed Alice, è un po' il motto del Soroptimist, è un punto di riferimento come è stato detto, un vero modello e mi piace che quest'anno sia assegnato a un medico perché nel nostro DNA di Soroptimiste noi abbiamo un medico famoso, la prima chirurgo plastico Madame Suzanne Noël. Veramente con grande piacere che consegno questa statuetta simbolo, una statuetta simbolica ma densa, densa veramente di profondo significato. Fra l'altro è un'opera di un famoso scultore, non dimentichiamolo, Giorgio Igne, ecco, Pordenonese. Quindi grazie Silvia, complimenti. Allora io sono un'epidemiologa che è un nome non molto molto conosciuto, in realtà sono un medico, sono una ginecologa ma ancora molto giovane ho deciso di dedicarmi non tanto alla cura dei tumori ma alla ricerca delle cause dei tumori e delle possibilità di prevenirli. Occupandomi soprattutto di tumori della donna sono anche in un campo fortunato perché abbiamo due grossi strumenti di prevenzione. Uno conosciuto ormai da molti anni che sono gli screening. I tumori della donna si possono diagnosticare precocemente. Tutti sappiamo che le donne tra i 50 e i 70 anni devono fare una mammografia, almeno ogni due anni, e tutte le donne dai 25 ai 65 devono fare un pap test. Ma adesso abbiamo uno strumento ancora, se vogliamo, più potente che si basa sulla scoperta che il tumore del collo dell'utero, che in Italia non è tanto frequente grazie agli screening, ma nel mondo, in tutto il mondo povero, in Africa, in America Latina, in molte parti dell'Asia, è il tumore più comune nelle donne, è causato da un virus. Questo virus si chiama papillomavirus e il grande vantaggio di questa scoperta è essere riusciti a costruire un vaccino che è preventivo e che in molti paesi ricchi, come l'Italia, come l'Inghilterra, l'Australia, gli Stati Uniti, è diventato parte integrante dei programmi vaccinali, salvo che invece di essere dato ai neonati viene dato alle ragazze. Certo, io ho detto che sono la Presidente nazionale del Soroptimist e non ho specificato, per chi non ci conosce, ma spero pochi, perché appunto a Pordenone c'è un club molto attivo e presente sul territorio, che cos'è questa associazione femminile nata nel 1921 con un nome un po' strano, Soroptimist, è una sorta di esperanto che unisce una radice latina, Sorores, con un suffisso anglosassone, sorelle per il meglio e credo che oggi veramente noi qui abbiamo il meglio, appunto questa dottoressa che effettivamente ha un curriculum, una carriera molto prestigiosa. Siamo quasi 6.000 in Italia, 139 club dalla Val d'Aosta alla Sardegna, alla Sicilia, quindi rappresentiamo senz'altro tutte le categorie professionali, siamo donne che lavorano, donne che si impegnano concretamente attraverso progetti. La consapevolezza, la progettualità, l'azione sono le nostre finalità al servizio della donna, vicino e lontano. Quindi i nostri progetti sono vicino, come Donna Maior nel territorio pordenonese, ma sono anche lontano. Pensate che addirittura abbiamo progetti alle isole Solomon nel Pacifico, proprio per le donne, proprio per il pap test per queste donne che altrimenti purtroppo morirebbero spesso di cancro, proprio perché non c'è la prevenzione.